Grazie Franci, sei stato proprio gentile. Ma che stai facendo? È finito. Ah, è finito. Ringraziamo Franci che viene da tanto, 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 tanto lontano. Ma come ci sto? I politici. Allora, grazie dallo studio, prendiamo la linea per la nostra rubrica Poltrona politica. E naturalmente nel bel mezzo di una riunione di gabinetto noi abbiamo incontrato due uomini politici autorevoli per quanto riguarda il governo attuale in Italia. L'onorevole Gianni Momangio, buonasera, benvenuto. Buonasera. E naturalmente alla mia sinistra il senatore Uccio Taiuto, benvenuto. Buonasera. Allora, naturalmente i temi sono scottanti, i temi sono quelli che comunque attanagliano un po' tutte le prime pagine dei giornali. Mass Media ne stanno parlando già da un bel po' e naturalmente siamo anche noi curiosi di fare alcune domande ai nostri politici di turno che, mi scuso ancora una volta con voi, abbiamo interrotto nel ben mezzo di una riunione di gabinetto. Il tema molto scottante, dicevo, di cosa pensano e di come si potrebbe risolvere questa questione che attanaglia il Sud e naturalmente queste domande vengono fatte anche alle Camere, al Senato, perché naturalmente ci si gioca anche il futuro della nostra Italia, di quello che è il futuro in Italia. Mi rivolgo naturalmente come prima domanda al nostro onorevole Gianni Momangio. La domanda che io vorrei farle, ma io mi faccio da portavoce perché naturalmente tutti gli italiani stanno pensando alla stessa domanda da rivolgerle e naturalmente per l'onorevole Momangio la domanda è questa, ma nel puparuolo imbuttonato i capperi ci vogliono oppure no? La domanda è difficile, anche perché c'è una discussione in aula, noi abbiamo chiesto la fiducia, ma l'altra fazione non ci si può ragionare. L'altra fazione, mi scusi, lei sta parlando in questo momento dell'onorevole del senatore Tagliuto che abbiamo qui di fianco. Assolutamente, non ci si può ragionare. Non ragionano su una cosa molto importante per il nostro paese, è importantissimo sapere come fare un prodotto così tipico. Il problema sono loro che non portiamo avanti questo discorso, perciò abbiamo chiesto la fiducia. Ecco, questa è una cosa indescrivibile poi in aula, le cose che combinano loro, quello che fanno. Allora, mi scusi, adesso lei ha sollevato un polverone al riguardo e naturalmente dall'onorevole Gianni Momangio passiamo la parola per par condicio al senatore Uccio Tagliuto, perché naturalmente essendo di fazione diversa lei dovrebbe pensarla in modo diverso. Ma tranquillamente noi la pensiamo in modo diverso, noi siamo una maggioranza molto concreta, che di poparoli ne parliamo tutti i giorni. È un argomento che abbiamo trattato nella nostra legislatura, anche nelle passate legislature. Loro non ne hanno mai fatto riferimento e adesso si vogliono appigliare su questo argomento. Noi ci stiamo lavorando sopra perché siamo una maggioranza concreta. Capito? E il senatore adesso sta sollevando un'altra questione, mi scusi onorevole, perché dice che di questa questione non è mai stata fatta parola. Mentre adesso, per quanto riguarda questo problema che si sta avendo anche nelle diverse regioni d'Italia, voi avete sollevato questo polverone. Ma non è vero, non è vero. Sono bugie, sono menzogne che solo loro sanno inventare. Cioè non esiste quello che ha detto, non esiste quello che ha detto. Noi abbiamo posto il problema, loro se ne sono fregati. Questa è la realtà dei fatti. Mi scusi onorevole, ma so che dall'altra parte c'è stata sollevata un'altra questione. Quella non solo del fatto che se ci vogliono oppure no i capperi nei poparuoli imbuttonati, ma soprattutto la questione della cottura, dei tempi di cottura, per quanto riguarda invece la stessa pietanza che viene servita. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. La nostra cottura si sa che 30 minuti almeno, almeno 30 minuti, loro invece dicono il contrario. Dicono un'ora, un'ora è qualcosa, ma non esiste, non esiste. Non siamo assolutamente d'accordo. Nei poparoli, no, la cottura è 40 minuti e 250 gradi, con i capperi, anche i chiapparielli. Anche i chiapparielli, ma assolutamente, loro al loro paese lo fanno. E adesso la discussione si è accesa, eh. Non esiste, non esiste, non esiste. La lice sicuramente ci va la liciocco là dentro, ma assolutamente non ci va il cappero, per favore. La lice, ha sollevato la questione della lice. Ma siamo, la lice ci va, è anche il capper, ma assolutamente, ma non scherziamo. Lei ce l'ha, lice? Certo, ce l'ho, nel Paese delle Meraviglie anche, stiamo lavorando su questa legge anche. Voglio dire che quello che facciamo noi, il nostro paese, è migliore di quello che fanno loro. Loro ci mettono le feci di sportiglione dentro, per favore. Le feci di sportiglione, questa è una notizia che noi non ci aspettavamo. Ecco, l'ignoranza dell'altra fazione. Le feci di sportiglione è un alimento DOC e DOP. Quindi... Quindi da mettere prima o DOP? DOP. Ecco, vede, vede che la questione l'ha sollevata lei adesso. No, no, noi dopo il DOP facciamo anche il pop, il pop e il dance, ma lei cosa capisce? Non abbiamo capito niente di queste cose. Il pop e il dance è uno, è un ingrediente importante. Se vogliamo partire dal 60, 70 e 80, di che cosa vogliamo parlare più? Non ne capiscono, si vede subito, si vede subito che non ne capiscono. Anzi, il nostro peperone è stato sempre il migliore, quindi non ne parliamo di questo. Per favore, ma lei per questo, lei e il suo partito per questo sta alla minoranza. Noi lavoriamo bene, lavoriamo sui puparoli DOC e POP. Mi scusi, senatore, io volevo ricordare solamente ai telespettatori che stanno guardando la nostra rubrica che anche nella scorsa legislatura c'è stata un'altra bagarre tra di voi perché naturalmente non si parlava di puparoli imbutunati nella questione che abbiamo sollevato prima ma si parlava soprattutto di mulignane imbutunate. E' stato cambiato leggermente il prodotto ma il risultato vedo che non cambia. Assolutamente, è sempre la solita ignoranza, è sempre la solita presunzione perché poi la presunzione va a braccetto con l'ignoranza. Non ci si può parlare con delle persone che non capiscono come cucinare un prodotto tipico della nostra zona, un prodotto italiano. La sta offendendo. Voi non capite niente, dovete andare a casa, non sapete governare. Ha parlato di presunzione, ha parlato di presunzione. Il puparolo, il puparolo, pop nostro, basta, basta, per favore, anzi le do un consiglio. Vorrei fare, se è possibile in questa intervista vorrei fare un po' di pubblicità. Noi usiamo la carta igienica, vacca carta che ce l'ho qua, se ci pulisse il c***o. Ah, questa è una vera e propria provocazione. Dottor Ape, questa qui è una vera e propria provocazione. Io me ne vado, non ci voglio stare qui, io non ci voglio stare. Sono dei nomadi. Lei ha lanciato una sfida, lo sa che lei ha lanciato una sfida apertamente. Sono dei nomadi, io con i nomadi non parlo. Sono degli ignoranti, se potete ritenga. Le ha dato del nomade. Sono loro, sono loro che stanno al nord, sono loro. Che cosa risponde lei? Con i nomadi non parlo, punto. Ecco, parla solo con gli alunni del sole. Con queste persone non ci voglio parlare, io me ne vado a una riunione di gabinetto cortesemente. La saluto. E allora... Allora vedo che la nostra discussione sta degenerando. Io volevo ringraziare il senatore Uccio Taiuto perché è andato via. Vedo che si lanciano ancora oggetti non identificati, ma sappiamo bene che sono stati identificati a priori perché naturalmente abbiamo parlato di quello che è il nostro sponsor, anche di questa rubrica. E lo sponsor, ricordiamolo, qual è? Vacca carta. Vacca ca. Con questo naturalmente chiudiamo questa rubrica a poltrona politica. Io restituisco, io non parto e non arrivo, non vengo e non torno perché naturalmente sono apolitico. Io con questa mia dirvi voglio dirvi appunto che restituisco la linea allo studio e il prossimo appuntamento con Alpotrona politica verrà rimandato a prossima settimana. Nel frattempo continuano a viaggiare oggetti in studio. E naturalmente da questa riunione di gabinetto dove abbiamo avuto ospite l'onorevole Gianni Momangio e il senatore Uccio Taiuto io restituisco la linea allo studio e a prossima settimana. A bocca. E poi gli sono finuti, credo che la trasmissione è finuta. Ah, siamo in onda di nuovo? Eh, sto salutando e finuto ce l'ha mai. Eh, ce ne dobbiamo andare, la trasmissione è finita, la stanchezza si è accanita su di noi perché noi siamo persone giovani. Siamo tutti su di lui ormai. C'è una certa età. Chi lo uscite da ci risolte per la cosa? Bacca cart! Bacca cart! Liberati! Ecco, uno bisogna liberarsi perché sta senza pensire. Ecco qua, avete pigliato un rodolo. Ok, siamo arrivati a questo. E concludiamo, dando l'appuntamento alla prossima puntata. Con Svetlana, perché Svetlana torna, che l'ha avuto un po' plemino, ora torna. Vabbè, se per caso alla dogana la sdoganano, se la fanno tornare, ritorna anche lei. Il programma, ricordatevi, Rotolando al Sud, parleremo di tutte le cose che succedono nel Sud, soprattutto Sud del Cilento. E in questi casi noi saremo principalmente ad Agropoli, ma poi gireremo tutto il Cilento. Mi raccomando, potete seguirci anche su Facebook, sulla pagina Rotolando al Sud. Ecco qua, la pagina. Confermate, potete dire tutto quello che volete, parlate soprattutto di loro, le nostre collaboratrici, le nostre vallette. E non parlate di me perché lo so che vi manca il fiat e vi manca la parola per dare dei giudizi positivi su un grande presentatore per una magnifica giornata. Grazie a tutti, alla prossima, ciao! Grazie a tutti!